Un episodio ancora tutto da chiarire ma dai contorni inquietanti e quello accaduto lo scorso mercoledì 12 gennaio all'itisfermi di San Filippo. Secondo quanto riferito e noto alla polizia alcuni studenti di altri istituti si sarebbero introdotti durante l'orario scolastico all'interno dell'edificio per aggredire nel bagno un ragazzo di una classe prima. Il tutto sarebbe successo senza che almeno nell'immediatezza il personale scolastico si accorgesse di niente. La notizia è poi trapelata ed è stata la stessa scuola ad avvisare la polizia. Dalla vittima al momento non sarebbe stata asporta nessuna denuncia.